Open Data INAIL Vediamo il quadro aggiornato degli infortuni denunciati da studenti delle scuole pubbliche statali dal 2014 al 2018. L'incremento pari al 2% nel 2018 conferma il trend di crescita iniziato nel 2017. Vediamo ora il numero degli infortuni accertati per mese di accadimento in percentuale rispetto al totale dei casi del 2018. Il numero maggiore di infortuni è stato denunciato nel mese di maggio, seguiti da ottobre, marzo e novembre. Grazie per la visione!